Il Presidente Barelli ed io rappresenteremo la posizione di Forza Italia, chiederemo in particolare più coraggio sul taglio delle tasse, sulla proroga delle cartelle esattoriali, sulla casa e sulla riduzione delle bollette elettriche. Questi saranno i temi, poi solo un'anticipazione. Quando usciremo vi diremo com'è andata. Noi stiamo per andare a chiacchierare con il Presidente Draghi, con la Lega noi troviamo sempre un accordo. Grazie.